segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il suo compito è quello di fotografare la realtà non di amministrarla invece c'è chi ha avuto responsabilità di amministrazione come luigi de magistris brambilla dice noi abbiamo già dato tanto al sud siete voi del sud che non siete stati capaci di spendere i soldi a disposizione senza i meridionali non ci sarebbe poi l'italia ci sarebbero le industrie del nord se pensiamo ai meridionali migranti quindi questa storia nord contro sud sud contro nord a me non piace io posso fotografare la realtà abbiamo sicuramente molti soldi meno che sono stati dati nel corso degli anni al sud l'ho visto da sindaco con i criteri della spesa storica cioè senza pensare all'autonomia differenziata che sarebbe il macete definitivo nei confronti dell'unità nazionale poi c'è una responsabilità di un pezzo importante della classe dirigente meridionale assolutamente sì così come però c'è una parte importante del sud che va in una direzione corretta ed efficace in condizioni improbe dove hai meno soldi meno servizi una presenza della criminalità in alcune zone opprimente con tanti giovani che per avere il lavoro devono andare via e quindi tanti talenti che perdiamo posso dire che per esempio e chiudo dal nella mia esperienza di sindaco poco è stata fotografata dai grandi media siamo state la città che meglio ha speso i fondi per la coesione quindi c'è un tema di classe dirigente c'è un tema di minori risorse e c'è un tema che si continua a dare di più a chi ha di più e meno allora tra poco De Magistris la porto nella sua